Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per filmare un video molto speciale. Stanotte siamo arrivati a 5.000 iscritti e io davvero non so come ringraziarvi di questo traguardo. È una cosa pazzesca per me. Il mio primo video ufficiale su questo canale risale al 10 di febbraio. Quindi non sono neanche 4 mesi che questo canale è ufficialmente aperto e già siete 5.000, anzi più di 5.000. È una cosa davvero che io non mi spiego, ma ci tengo a ringraziarvi tantissimo e a ricordarvi che questo canale esiste grazie a voi, esiste grazie alle persone che guardano i miei video, che commentano i miei video e che si iscrivono, che quindi supportano questo canale. E quindi grazie perché a me piace un sacco fare video, mi piace un sacco fornire contenuti di questo tipo per il mio canale. Però grazie perché è grazie a voi che posso fare quello che faccio. Quindi sì, ci tenevo a ringraziarvi e appunto a dirvi questo. Per i 5.000 iscritti ho pensato di fare un ask, ovvero un video dove risponderò alle domande che voi mi lascerete. Potete lasciarmi le domande qua sotto oppure su Instagram, metterò una foto annunciando che farò un ask appunto e sotto quella foto, solo sotto quella foto, potrete fare le domande su Instagram. Invece se volete fare le domande direttamente sotto questo video potete farlo tranquillamente, non risponderò nei commenti ma appunto nel prossimo video ask, che filmerò penso tra circa una settimana o una cosa del genere. Quindi davvero ancora grazie mille per questo traguardo, siete fantastici. E un'altra cosa che volevo dirvi è, non so se avete notato, ma ho cambiato location. Era una cosa che volevo fare da tempo e ho pensato che i 5.000 iscritti fossero un traguardo veramente fantastico. E ho pensato che per i 5.000 iscritti devo assolutamente sistemare quello che non mi piace del mio canale, ovvero quando riprendo me stessa mi dà fastidio vedere l'armadio dietro, una cosa che non sopportavo per niente. Quindi ho pensato di comprare un fondo che è questo. Non è ancora definito completamente, nel senso che in teoria non è questo il risultato che voglio ottenere, però per il momento diciamo che è un cambiamento provvisorio, che spero che stiate apprezzando. Se riuscirò a fare un'altra piccola modifica sarà ancora migliore, spero, altrimenti lo terrò così. Comunque mi piace molto di più rispetto all'armadio che faceva un po' confusione, non lo so, non lo so, non lo sopportavo. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova location per i video in cui mi si vede in faccia. Come vedete sono qui con Giulia, che è nel car seat, il seggiolino della macchina. Adesso ve la faccio vedere. Allora, eccola qui. Ecco. Spero che la vediate. Ecco qui. Allora, oggi è indossa questo golfino bellissimo, fucsia, con un paio di jeans e le calzine coordinate. E ho pensato di farvi vedere Giulia oggi perché il nome del canale, cioè il canale prende il nome da lei, che è stata la mia prima reborn. Quindi ho pensato che per ringraziarvi dei 5.000 iscritti fosse carino farvi vedere Giulia in un video. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che carico. Grazie mille ancora per il traguardo, davvero siete fantastici e noi ci vediamo presto con nuovi video. Ciao!